Gol di Lautaro Martínez è buono e arriva qui il triplice fischio Inter batte Verona 6 a 0 a domicilio una grande vittoria per l'Inter che porta a casa un successo in queste modalità siamo quasi insperato perché prima di questa partita tanti dicevano è però il Verona in fiducia però il Verona deve salvarsi quindi è una sfida insidiosa è sempre un campo insidioso sono d'accordo perché soprattutto in questo momento guai a sottovalutare qualsiasi tipo di avversario però in questo momento l'Inter ha messo la modalità rullo compressore sembra tornata quell'Inter del miglior periodo inzaghiano di quel famoso periodo novembre e ottobre del primo anno di Inzaghi un Inter che quando ha rimesso a posto il centrocampo dove tutti i centrocampisti sono saliti di livello e gli attaccanti si sono sbloccati ha cambiato letteralmente marcia dal Benfica in poi l'Inter sta tenendo la media di oltre tre gol a partita se considera Benfica Empoli Juve la Lazio oggi sei davvero davvero una grande prova di un Inter che su un campo che poteva nascondere insidie dimostra chiaramente di poter gestire meglio i tre impegni ravvicinati in una sola settimana rispetto ad una squadra che deve lottare per la salvezza che poteva avere anche qualche motivazione in più dal fatto che lo Spezia era caduto proprio prima di questa partita quindi poteva anche superarlo in classifica e riportarsi in posizione in zona salvezza invece l'Inter in una gara che rischiava di complicarsi sembrava dicevi anche tu all'inizio per certi versi di rivedere il primo tempo di Empoli Inter poi come è successo lì nel secondo tempo qui ancora prima è bastato un 1-2 di fuoco terribile l'Inter in 7 minuti ha di fatto chiuso la partita l'autogol di Gaic finalmente anche un pizzico di fortuna che ci assiste Cialanoglu trova un gran gol dalla distanza cosa di cui abbiamo molto bisogno anche di queste conclusioni dalla distanza balistiche che ci aiutano molto e Dzeko poi che si sblocca questa è una delle notizie più importanti perché aspettavamo appunto Edin Dzeko dopo Correa dopo Lukaku dopo Lautaro ci serviva anche lui segna anche lui e l'Inter porta a casa una grande vittoria 6-0 una dimostrazione di forza importante incoraggiante sicuramente in vista anche delle partite che abbiamo di fronte Sima Sì è un risultato rotondissimo non eravamo più abituati però hai detto bene tante buone notizie io parto come sempre dall'attaccante che si sblocca io continuo a pensare che ritrovare gli attaccanti in termini di prestazioni ma poi anche di gol sia veramente fondamentale e mancava di fatto solo Dzeko e oggi l'hai ritrovato con due bei gol il secondo soprattutto bellissimo e questa è una grande notizia è una grande notizia Il Verona Rio insisto il 6-0 non annulli quello che si diceva del Verona pre partita una squadra che stava bene con 4 risultati utili nelle ultime 5 due vittorie e due pareggi una squadra che non perdeva ha perso in casa una partita sola in tutto il 2023 e una squadra che ha pareggiato a Napoli ha pareggiato contro la Lazio non era un avversario facile di questo momento Con l'Inter che poi appunto come dicevamo doveva anche gestire un attimino le forze e le rotazioni bene che abbia chiuso la partita nel primo tempo perché poi la ripresa comunque l'hai giocata abbastanza in scioltezza Era l'ultima partita sulla carta un pochino un pochino più facile delle altre detto che poi la carta sappiamo che conta fino a un certo punto e bene di averla vinta adesso vediamo adesso c'è c'è la Roma poi c'è la Champions però direi che ci arriviamo in un momento molto positivo questo sì Ecco ci arriviamo in un momento in cui tra l'altro siamo un po' anche distratti dal fatto che si stanno giocando i minuti finali proprio mentre registriamo questa clip di fine partita delle altre partite sugli altri campi e finisce qui finisce qui un altro risultato importantissimo finisce Milan 1 Cremonese 1 pareggio del Milan pareggio della Roma Monza 1 Roma 1 con tra l'altro anche l'espulsione di Celic per la Roma l'espulsione diretta e salterà quindi la partita di sabato contro l'Inter problemi fisici per la Roma che sta perdendo un po' i pezzi risultato importantissimo in questo turno di campionato vi condivido tra l'altro anche la classifica dunque a questo punto aggiornata con questi risultati questo è un turno dove i risultati sembrava sembrava una giornata sulla carta Simo interlocutoria per il campionato invece 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 con le sorprese ci ritroviamo a commentare il Napoli va bene in vetta la classifica con 79 punti fa un campionato a parte la Lazio 64 per la vittoria con la vittoria per 2 a 0 sul Sassuolo Juventus 63 vista la vittoria sul Lecce giocando in anticipo rispetto a noi l'Inter si porta in questo momento solitaria al quarto posto a quota 60 punti grazie a questo tris di vittorie consecutive in campionato Inter solitaria lo ripeto al quarto posto mantiene a distanza di due punti l'Atalanta che aveva battuto lo Spezia Atalanta che aggancia invece Milan e Roma tutte e tre a 58 punti e prossimo turno di campionato che sarà piuttosto insidioso perché c'è ancora l'incrocio Milano Roma questa volta a parte invertite con Milan Lazio Roma Inter di sicuro l'Inter ci arriva carica comunque in fiducia con speriamo una formazione quasi al completo speriamo non subentrino problemi in in queste giornate però Simo io sono estremamente carico in questo momento sono estremamente fiducioso in questo momento perché l'Inter ha ingranato bene sta gestendo bene le energie oggi è stata anche una partita che ci ha permesso di non spendere molto e faccio fatica anche ad individuare dei migliori in campo quindi tra pochissimo ne parleremo insieme faremo un po' il punto della situazione tutti insieme con le pagelle dei tifosi però questa è un'altra giornata molto importante adesso sta a noi sabato piazzare un altro affondo decisivo proprio al ridosso dell'Euroderby d'andata Eh io capisco l'Euroderby al quale sicuramente i nostri avranno un pezzo di testa come quelli anche del Milan però è davvero fondamentale a questo punto battere alla Roma perché il turno di oggi io non mi aspettavo così tanti comunque risultati positivi cioè il Milan dopo ti racconto un paio di azioni nel finale che ho seguito Milan pareggi in casa con la Cremonese peccato perché se avesse perso visto che ha segnato nel finale sarebbe stato dietro di tre punti e quindi sarebbe stata diciamo una partita completa di vantaggio se così vogliamo dire però comunque pareggiare in casa con la Cremonese non è un buon risultato la Roma frenata con frenata dal Monza poi sai c'è sempre la Juventus lì che non sai se verrà ancora penalizzata o meno e nel caso lo fosse nel caso nel caso lo fosse sicuramente la classifica sorriderebbe ulteriormente però vedi questa è la dimostrazione fai tre vittorie di fila che comunque sono nelle corde di una squadra come l'Inter e all'improvviso la classifica che magari ti vedeva sesto settimo potenzialmente ti può vedere quarto forse addirittura terzo bisogna andare avanti così martellare continuare a vincere e come dicevi bene domenica c'è uno scontro un doppio scontro fondamentale fra Roma e Milano ti racconto rapidamente il finale di Milan Cremonese perché incredibile Milan segna intorno al novantesimo con una punizione calciata da Messias un rimpallo in area di un difessore della Cremonese che di fatto si fa autogol nel finale viene espulso picchia il della Cremonese per una sorta di pugno alla gatti se vogliamo in faccia tonali rosso corretto per condotta violenta cosa che non è accaduto inspiegabilmente a Torino occasione cross in mezzo esce carne secchi trattiene il pallone lancio in profondità per un compagno tre contro due al novantatresimo per la Cremonese palla in mezzo tiro centrale parata di Mignan poteva essere una grande occasione per ritornare in vantaggio al novanta e settesimo credo tiro da fuori area di un giocatore del Milan mi sono perso chi in miracolo di carne secchi che si allunga e la mette di poco fuori dalla dalla porta e poi sugli sviluppi del corner finisce la partita quindi brividi fino all'ultimo però ripeto il Milan per noi dell'Inter tira fuori un risultato positivo ecco perché pareggiare in casa con la Cremonese rubiamo due punti che per come la vedevo io sono totalmente insperati ecco in partenza vero 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 condivido condivido sono d'accordo aggiungo un'altra considerazione poi eh guardando sempre la classifica sei gol non è un dettaglio perché ci permette di fare un altro passo avanti anche a livello di differenza reti e in un finale di campionato dove ce la giocheremo probabilmente punto a punto con tante squadre anche questo è un dettaglio non da poco per esempio con la Lazio l'Inter in caso di arrivo a pari punti conterebbe la differenza reti quindi è importante guadagnare guadagnare terreno anche da questo punto di vista oggi l'Inter ha fatto un bel passo avanti guadagnando quattro gol nella differenza reti rispetto alla Lazio per esempio quindi molto molto bene anche questo eh alcune notazioni per chi non avesse visto la partita Simo il centrocampo Brozovic c'è la amica italiana stasera l'Inter si schiera con i tre palleggiatori di fatto quelli forse con il tasso tecnico maggiore eh in a disposizione forse si pensava di perdere qualcosina dal punto di vista della fisicità eh abbiamo avuto un piccolissimo brivido sullo zero zero con una sortita offensiva di Lasovic e Verdi in combinazione dove è stato bravo eh Andanovic a coprire poi per il resto l'Inter ha totalmente dominato ad un certo punto l'Inter dopo trenta minuti aveva oltre duecento passaggi il Verona solo ventinove più di settanta per cento possesso pala è stato un dominio assoluto da parte dell'Inter che eh ripeto secondo me la vera differenza nel motore dell'Inter sta proprio lì a centrocampo in queste ultime giornate oggi tutti e tre li ho visti davvero ad un livello altissimo gli attaccanti hanno fatto come il come al solito un grande lavoro per favorire il gioco della squadra ha portato i suoi frutti ma hanno portato anche quattro gol di fatto Dzeko e Lautaro quindi tante tante notizie positive oggi. Sì degli attaccanti detto bene abbiamo detto bene anche prima il centrocampo io da sempre sono un sostenitore diciamo della tecnica sono d'accordissimo che il fisico il muscolo la corsa ci vuole sicuramente però quando hai in campo giocatore di tecnica la differenza la vedi e oggi è uno di questi esempi chiaramente Barella è uno degli irrinunciabili non sto dicendo che si possa accantonare Barella per questo centrocampo fa benissimo che ci sia che e che sia anche il titolare e i numeri paradossalmente se ci pensi erano talmente sproporzionati da sembrare i numeri che descrivono una gara bloccata sullo 0 a 0 cioè se io mi immagino un 77 per cento mi ricordo ancora di possesso parla dell'Inter contro il 23 del Verona unito a quel dato sui passaggi che dicevi prima mi immagino uno 0 a 0 perché una è proprio completamente chiusa dietro poi se l'altra è l'Inter ancora di più invece cavolo 3 a 0 c'è proprio la partita perfetta nel primo tempo poi nella ripresa ne fai altri tre è una partita che scorre via molto liscia aggiungo anche un altro dettaglio da considerare Inzaghi nonostante la prossima partita determinante con la Roma mette in campo tutti e tre i diffidati che ha l'Inter all'attivo e la gestiscono benissimo non ricevendo cartellini la gestione delle diffide dall'anno dello scudetto con Conte in poi è diventata quasi quasi chirurgica dall'Inter cioè chiunque sia il diffidato sia che sia magari il più fumantino Barella per dire ricordo tempo fa o anche giocatori più tranquilli come Mkhitaryan tendenzialmente non fanno l'errore di prendersi il giallo prima di una gara importante magari per delle sciocchezze questa è un'altra cosa positiva perché denota comunque la maturità della squadra chiaramente la partita oggi ha aiutato per come si è messa però è un altro segnale non indifferente perché vuol dire che comunque ti puoi fidare al 100% dei tuoi giocatori poi per carità può succedere nel calcio sai una scivolata un errore però è un altro fattore che che secondo me è molto positivo decisamente decisamente sì e tutto bene Simo io chiudo allora questa clip con l'immagine della serata che sarà inevitabilmente questa l'immagine della serata le facce di Marotta Ausilio e Zanetti al gol di Ceranoglu che sono state anche le nostre facce visto anche il risultato quindi i tifosi interisti stasera al 6 a 0 dell'Inter hanno proprio questa faccia qui di Marotta Ausilio e Zanetti davvero esterefatti sugli spalti del Bente Godi chiudiamo qui allora la nostra clip vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e vi aspettiamo ovviamente nel club di passioni tra www.passioninter.club a parte invece le pagelle dei tifosi che arrivano tra pochissimo